Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campana per non perdere nessun video. Buongiorno cari studenti. Buongiorno cari studenti. Oggi avrete il risultato delle vostre verifiche. Oggi avrete il risultato delle vostre verifiche. Avete svolto la verifica la scorsa settimana. Avete svolto la verifica la scorsa settimana. È andata bene. È andata bene. Tutti gli studenti hanno ottenuto la sufficienza. Tutti gli studenti hanno ottenuto la sufficienza. Quasi tutti. Quasi tutti. Lisa, puoi venire un momento da me, per favore? Lisa, puoi venire un momento da me, per favore? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Vorrei parlarti brevemente della verifica. Vorrei parlarti brevemente della verifica. Ho preso un buon voto? Ho preso un buon voto? Non proprio. Hai preso due, Lisa. Non proprio. Hai preso due, Lisa. Ma questo è il voto peggiore. Ma questo è il voto peggiore. Perché non hai studiato per la verifica? Perché non hai studiato per la verifica? Ho studiato molto in realtà. Ho studiato molto in realtà. Non c'è niente che io possa fare. Non c'è niente che io possa fare. Tutte le risposte erano sbagliate. Tutte le risposte erano sbagliate. La prossima volta studierò di più. La prossima volta studierò di più. Lo prometto. Lo prometto. C'è un altro problema. C'è un altro problema. Era la terza verifica in cui hai preso un 2. Era la terza verifica in cui hai preso un 2. Devo parlare con i tuoi genitori. Devo parlare con i tuoi genitori. La prego di non farlo, maestro Luigi. Studierò di più. La prego di non farlo, maestro Luigi. Studierò di più. E' troppo tardi. E' troppo tardi. Salve, signor Petrucci. Sono il maestro Luigi, l'insegnante di Lisa. Salve, signor Petrucci. Sono il maestro Luigi, l'insegnante di Lisa. Salve, maestro Luigi. Come posso aiutarla? Salve, maestro Luigi. Come posso aiutarla? Devo parlarle di Lisa. Devo parlarle di Lisa. E' successo qualcosa? Sta bene? E' successo qualcosa? Sta bene? Lisa ha preso un 2 oggi. Lisa ha preso un 2 oggi. Cosa non ci posso credere. Cosa non ci posso credere. C'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Che altro c'è che io debba sapere? Che altro c'è che io debba sapere? Per favore, venga a scuola. Per favore, venga a scuola. Vorrei parlare con lei personalmente. Vorrei parlare con lei personalmente. Ok, sto arrivando. Cos'altro ha fatto di male Lisa? Cos'altro ha fatto di male Lisa? Spero che non sia niente di brutto. Spero che non sia niente di brutto. Normalmente è una brava bambina. Normalmente è una brava bambina. Ora parlerò con il suo insegnante. Ora parlerò con il suo insegnante. Questa è la scuola di Lisa. Questa è la scuola di Lisa. Devo andare nell'ufficio del maestro Luigi. Devo andare nell'ufficio del maestro Luigi. Salve, signor Petrucci. Grazie per essere venuto. Salve, signor Petrucci. Grazie per essere venuto. Nessun problema. Perché vuole parlare con me? Nessun problema. Perché vuole parlare con me? Lisa ha grossi problemi a scuola. Lisa ha grossi problemi a scuola. Davvero, non ne sapevo nulla. Davvero, non ne sapevo nulla. Ha già preso 3-2 quest'anno. Ha già preso 3-2 quest'anno. Questo non va bene. Questo non va bene. Sì, è una brutta situazione. Sì, è una brutta situazione. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Forse dovrebbe ripetere l'anno. Forse dovrebbe ripetere l'anno. Dovrebbe ripetere l'intero anno scolastico. Dovrebbe ripetere l'intero anno scolastico. È solo un'idea. È solo un'idea. Voglio solo ciò che è meglio per Lisa. Voglio solo ciò che è meglio per Lisa. Grazie mille per il suo aiuto. Grazie mille per il suo aiuto. Ho un'idea. Ho un'idea. Sono curioso di sentirla. Sono curioso di sentirla. Potrei studiare con Lisa tutta l'estate. Potrei studiare con Lisa tutta l'estate. Poi farà di nuovo tutte le verifiche. Poi farà di nuovo tutte le verifiche. Si può fare. Si può fare. Grazie mille per questa seconda possibilità, maestro Luigi. Grazie mille per questa seconda possibilità, maestro Luigi. È un piacere. È un piacere. Cosa ha detto il maestro Luigi, papà? Abbiamo ancora una possibilità, Lisa. Abbiamo ancora una possibilità, Lisa. Ma abbiamo molto da studiare insieme. Ma abbiamo molto da studiare insieme. Lo faremo. Grazie papà. Ti voglio bene. Lo faremo. Grazie papà. Ti voglio bene. In quante verifiche Lisa ha preso due? A. Una. B. Due. C. Tre. Scrivi un commento. In quante verifiche Lisa ha preso due? A. Una. B. Due. C. Tre. Scrivi un commento. A. B. B